Marco, un ritorno e tanta emozione. Sì, dai, già sono tre giorni che sono al lavoro nella mia nuova veste, sono chiaramente molto felice di essere tornato, chiaramente devo ringraziare anche la Meta per questi due anni, per il percorso che ho fatto con loro, anche di crescita, e adesso mi trovo in un progetto importante di costruzione di Nuovo Catania, quindi per me era la strada che sognavo. Senti, l'hai voluto fortemente, tu non sei mai andato via da Catania, cosa ti lega a questa città? Sono tanti anni che ormai vivo qua, che vivo la città, che vivo la passione che c'è della gente, al di là del calcio, quindi io mi sento a casa qua, mi sento a casa e mi sento anche di dare tanto a questa città che mi ha accolto quando ero giovane, quindi per me essere di nuovo qua con questi colori chiaramente rappresenta tanto, dico è vero non mi sono mai staccato perché comunque è stato un addio involuto e anche difficile da accettare, quindi la mia volontà era di rientrare, quindi ripeto, ringrazio la Meta per questo percorso, non mi staccherò mai da loro perché comunque voglio continuare anche con loro un percorso importante, ma adesso c'è anche da dare il massimo per il Catania ed è bello. Allora, quando saremmo pronti, festeggeremo con un bicchiere di birra ghiacciata? Sì, la birra è un altro progetto che deve crescere, birra e Catania sono due piccole realtà in questo momento, ma devono diventare grandi, quindi poi festeggeremo tutti insieme. Grazie Marco. Grazie, grazie.